Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, prende carta e penna e scrive una lettera per Edoardo. Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere non solo da Antonella, ma da tutta la sua famiglia. Dunque, ti dico di stare attento, apri gli occhi Edoardo, esordisce Francesco Chiofalo. Poi prosegue tirando in ballo anche Gianluca Benincasa, ultimo fidanzato della Fiordelisi prima di entrare nella casa. Non hanno smesso di stare insieme e anche di amarsi. Hanno continuato a sentirsi e a mandare messaggi di passione fino a un secondo prima che a lei fosse tolto il cellulare. Lei mi aveva chiesto di fare lo stesso quando stavamo insieme e doveva entrare all'isola dei famosi. Naturalmente io non ho accettato e non è stata neanche scelta. All'inizio della nostra storia lei era una ragazza sconosciuta, vicino a me è diventata un influencer strapagata. Le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando l'effetto Chiofalo si era ormai esaurito ho capito che al padre non andavo più bene. Francesco, in ultimo, avverte ancora Edoardo. Edoardo sta con te per convenienza, la sua ambizione vincerà sempre sull'amore. Sono convinto di una cosa. Se non fosse stato per i consigli del padre a quest'ora Antonella ed io staremmo ancora insieme, perché l'attrazione è un fatto di pelle e non di titoli. Chissà domani Alfonso farà leggere queste amare parole ai diretti interessati.